E' lì, vuoi un parla fattoria? Che da fare? Mi sto preparando Vai Cigno, vai Cigno Cigno Stai, stai Tra poco Questo è un gesto mio perché l'altro mi sta tirando Non ti dà il postino No, no Che di solito cosa usi? Un olio senza profumi Ah, ok Un gesto vino per le ragazze che vogliono tutto Non può svolgere No, ma qua l'aperto non si sente tanto Sì, a me non è ancora arrivato Come va? Ottimo, ottimo Vinceremo sicuramente C'è tensione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie 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 Grazie.